Tradizionale appuntamento natalizio organizzato da Croceverde Lucca e Il Mondo di Claudio Marchini Onlus nei tre cinema della famiglia Gialdini, moderno, astra e centrale, con gli studenti dell'Itisfermi. Argomento il rispetto del codice stradale. Quest'anno con una novità, la presentazione del nuovo spot sulla sicurezza stradale ideato dalle due associazioni e realizzato da Simone Rabassini, regista lucchese, e Coralis Video. Noi da 17 anni andiamo in tutte le scuole della provincia di Lucca, in buona parte, scuole superiori e le scuole medie per cercare di inculcare nei ragazzi un po' di attenzione sulla strada in maniera da poter salvare qualche vita umana. Il fenomeno degli incidenti stradali purtroppo non accenna a diminuire ed interessa in maniera particolare i giovani, come sottolinea l'ex assessore Marchini. Le strade italiane praticamente producono, dico producono, ogni anno oltre 3.000 morti, 220.000 feriti, di cui 15.000 gravi. Causa degli incidenti stradali, insieme alla velocità, insieme all'alcol, alla droga, alla disattenzione in generale. Il mancato rispetto alle regole che sta veramente producendo una strage quotidiana, in modo particolare con i giovani. Lo spot è stato realizzato grazie al bando Generazione Giovani Sì, promosso dal CESVOT e finanziato dalla Regione Toscana, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il contributo delle fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca.